avvicinate se no è troppo lontano eh no perché se no non ti becco vai vai non ne beccava, vai avanti ne abbiamo beccava la pizza come me ma è una messa del conto che c'è perché mi ricordo la Nutella forse per tagliarla la Nutella? la Nutella per tagliarla la pizza che ho già pensato alla scusami la Nutella, la pizza con la Nutella si la pizza con la Nutella eh no ce la metti sopra perché se no si secca la Nutella la Nutella fai bianca e poi la scatta te protegge quel guanto? no certo cazzo come le greppo non è la cazzo ok questa pure è pronta guarda i puntini guarda che mare c'è Grazie